ciao ragazzi buongiorno buongiorno a tutti oggi ragazzi si sono felice perché sono sempre felice quando vado a pescare ovvio no però sono anche determinato sono determinato ma scusate raga che state guardando sono sporco da qualche parte i capelli state guardando i capelli eh si li ho tagliati dicono che sono più bello sono riaffacinante sento pure più giovani eh vabbè ma vuoi vi fare il caso di guardare i capelli quando dobbiamo parlare di pesca ragazzi torniamo a noi e quindi raga quanto è il limite massimo che un pescatore subacqua può uscire fuori dall'acqua di pesce 5 kg stamattina ho liberato il cofano apposta per far entrare 5 kg di fila quindi ragazzi seguitemi ruffiamoci in questa nuova avventura andiamo ragazzi è tutto sporco qua il mare seppure seppure oscurato il cielo fra poco è capace si mette pure a piovere ce ne torniamo a casa ma quale raga ma no chi ci ferma seguite va riempiamo questo cofano rate, spigole, qualche salogo di contorno no ma va oh mare nero, mare nero, mare nero, mare nero vediamo se ci farà pescare oggi devo vedere se ci farà pescare con questo mare adesso andiamo dove praticamente nel punto in cui si incrocia questo mare sporco con quello pulito e lì ragazzi il sessantino è fondamentale e poi io mi fido ciecamente di questo sessantino perché ragazzi è miciniale quindi ragazzi che aspettiamo seguitemi oggi nonostante tutto nonostante tutto faremo pesce andiamo sempre fiduciosi andiamo bene proprio bene ciao 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 Grazie a tutti. 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 E posso accompagnarla? No. Mi dà il suo numero di telefono? Non insiste. Possiamo almeno rivederci? Guardi che chiamo una guardia.